Ed ora la nostra rubrica Il Morto del Giorno in HD, ce la racconta Oscar Carogna. Oscar, ti senti? Sì, Fortecchiasso Mario, mi trovo qui a Schiattasogliole sul marmo, dalle spalle della casa della famiglia Cafone, che proprio questa notte ha perso il proprio figlio Riccardo in un tremendo quanto provvidenziale incidente avvenuto in HD. Ma vediamo subito il film Magini. Non solo l'alcol a mietere le vittime della strada, ma a volte anche la cultura. A farne le spese Riccardo Cafone, un ragazzone 24enne semi-analfabeta che aveva da poco imparato a leggere. Le parole del nonno non bastano a descrivere l'incidente che ha colpito Riccardone, che alle 11.33 circa, mentre stava percorrendo l'autostrada, ha fatalmente letto uno dei messaggi informativi. Se sei stanco, passa il volante a un amico. Il ragazzone, fiero di essere riuscito a leggere il cartello, ha interpretato però il messaggio alla lettera e ha scardinato con la sua grande forza contadina il volante dell'auto, passandolo all'amico. L'automobile di Riccardo, sprovvista di volante, ha iniziato quindi a sbandare. E dopo pochi avvincenti attimi, i due ragazzi sono finalmente finiti in un burrone. Io ho visto tutto perché stavo nella piazzolla di sosta che mi era venuta un attacco di diarrella e a un certo punto ho visto questa macchina che camminava tutta strana col volante a destra e mi sono detto, ma che stiamo all'Inghilterra, ma come... Poi ho sentito una botta fenomenale, baboom! E questi ragazzi sono schizzati fuori come... come una catapulta! Ironia della morte, solo Riccardone è deceduto, mentre l'amico Sandro è rimasto totalmente illeso. Io non ho stato morti! La procura di Schiatta Soglio le ha aperto un'indagine per accertare i colpevoli di questa orribile tragedia che forse poteva essere evitata. Non è stato un incidente, sono state zinghere! Ed ora siamo qui con la madre del figlio del morto del giorno. Sì, signora, un commento così a caldo sulla morte del suo figlio schiattato! Forse mio figlio, se non avrebbe invenuto a leggere, forse adesso vivresse ancora! Ecco, non si capisce niente la signora. E allora, quali sono state le cause, secondo voi, della morte di Riccardone? Lo chiediamo proprio a voi con il nostro sondaggioni! Chi ha ucciso Riccardo Cafone? Gli zingari? La cultura? La morte? Manda un sms all'854040. In palio, la simpatica suoneria di Ragrumina! A te la linea, Mario!